Questa città è bellissima, il professore Crisci, il professore Urti, l'avvocato Guido Maurano, il professore Aldo Botti, Paolo Caputo, Enzo Barone, Crispino, l'avvocato Mautone, Domini, Di Marco, Paolo Serra, il dottore Isidoro Pacifico, Agostino Di Bartolomei, Franco Alfieri, Adamo Coppola. Li voglio ringraziare ad uno ad uno perché ognuno di loro ha dato il proprio contributo. Voglio ringraziare in modo particolare mio cognato Germano Rizzo che non c'è più, che è scomparso da qualche anno, che ha speso la sua vita in decine di iniziative, tutte orientate a far crescere la bellezza di Agropoli. Da lui ho imparato una cosa molto importante, che non conta vincere o perdere, conta come si gioca, come si gioca la partita e lui l'ha giocata con i valori dell'onestà, del rispetto dell'avversario, del credere sempre nel dialogo e nel confronto. Voglio ringraziare Massimo Laporta che mi ha concesso questi pochi minuti del suo spazio. Dico subito che non sono un candidato, la mia presenza qui è una presenza un poco anomala, in quanto porto il pensiero di migliaia di cittadini agropolesi che in questo periodo della campagna elettorale hanno pensato delle cose. Sono qui per rivolgere a Franco Alfieri tre domande, che non c'è dubbio se perde scompare dalla scena politica, se vince beh lo teniamo qui altri 50 anni e lo terremo e lo ospiteremo come abbiamo fatto sempre con tutti. Dico se vince o perde Franco Alfieri perché oramai la posizione è chiara, l'andamento di queste elezioni ha fatto sì che il vero candidato del centro-sinistra non fosse Roberto Mutalipassi, bensì Franco Alfieri. Ma non è una presa di posizione. Ai comizi Franco Alfieri di Roberto ha detto solo, caro Roberto votate Roberto perché è bravo e buono ed è il sindaco ideale, punto. Per il resto ha parlato più lui che il candidato sindaco. In un'ora di comizio Franco ha parlato 45 minuti, i 15 minuti di Roberto sono stati dedicati più al dire a ragione Franco. Hai parlato solo di te, di quello che sei, di quello che fai, di quello che farai se vince Mutalipassi. Hai parlato da presidente dell'unione dei comuni cilentani, hai parlato da delegato della regione Campania, hai parlato di sindaco del comune di Agropoli dal 2007 e dal 2017. Poi, sempre caro Franco, a più riprese anche in televisione hai detto che tu ami Agropoli, che hai un debole per Agropoli, che hai il diritto, ha detto proprio così, di mettere il naso nelle cose di Agropoli e che non è indifferente alle vicende di Agropoli. E qui è la prima domanda che ti rivolgo, Franco. Se ami tanto Agropoli, se ci tieni veramente ad Agropoli, se volevi fare sindaco ad Agropoli, se volevi portare a termine il tuo programma interrotto come dici tu da Adamo Coppola nel 2017, perché non hai fatto l'unica cosa che dovevi fare? Dimetterti da sindaco di Capaccio e presentarti come sindaco nel comune di Agropoli. Era semplice. Bastava che ti dimettevi da sindaco del comune di Capaccio e nei termini previsti presentavi le tue belle liste, ti presentavi come candidato a sindaco e realizzavi il tuo sogno di lavorare per Agropoli. Perché non lo hai fatto? Franco, lo so che tu mi risponderai o non mi risponderai, molto probabilmente mi prenderai anche in giro, ma dopo, se i cittadini che restano lo desiderano, dai una risposta a loro. Perché se non rispondi, i maligni, sai che cosa possono pensare? Che non lo hai fatto perché vuoi essere l'unico, l'indiscusso ed indiscutibile capo del Cilento. Vuoi essere contemporaneamente sindaco di Agropoli, sindaco di Torchiara, sindaco di Capaccio, sindaco di tutto il Cilento, ma sai che non funziona così. Spesso nei tuoi comizi e negli incontri che hai avuto, li ho seguiti quasi tutti quanti, hai parlato come presidente dell'unione dei comuni cilentani e hai detto guarda che ci sono una barca di soldi, tanti progetti che vedono Agropoli in prima fila, io mi impegnerò perché questi si realizzeranno e però votate mutali passi. Ora, tu essendo il presidente dei comuni cilentani, a, non dovevi prendere posizione per uno dei candidati perché Agropoli, come Torchiara e come altri, sono e fanno parte della comunità dei comuni cilentani. B, dicendo vota mutali passi, hai dato l'idea a chi ti ascolta che se non vince mutali passi questi progetti per Agropoli ci saranno lo stesso, questi soldi? Mi spiego, puoi dire dopo, cari agropolesi, se perde mutali passi io avrò lo stesso impegno per Massimo Laporta che vince le elezioni e sarò un vero presidente dell'unione dei comuni cilentani. Caro Franco, se non rispondi i maligni potrebbero pensare che hai messo in campo tutti questi progetti e tutti questi soldi per orientare il voto verso mutali passi, il che non è proprio una cosa del tutto corretta. Alla terza domanda, hai detto che è stato il gruppo dirigente a non volere la ricandidatura di Adamo Coppola. Ora, non ricandidare un sindaco che ha amministrato cinque anni per i successivi cinque anni è più un fatto unico che raro. Deve aver commesso qualcosa di talmente grave il povero Adamo da non poter essere ricandidato che ovviamente Franco ha deciso di non ricanditarlo. Perché dico Franco? Perché questo fantomatico gruppo dirigente di cui si ignorano i nomi, secondo me è composto da Franco Alfieri, Franco Alfieri, dal presidente della comunità dei comuni cilentani e dal sindaco del Gavaccio. Come ha giustificato a stile tv Franco il fatto che non ha dato la fiducia ad Adamo Coppola? Ha detto che non è stato in grado di continuare quel percorso iniziato da me nel 2007 fino al 2017. Non è questa la motivazione. I maligni hanno detto che non lo hai riconfermato per due motivi. Il primo perché prendesti il bagno alle elezioni politiche dopo un anno e mezzo di amministrazione Coppola e hai dato la colpa a Coppola. Ma il motivo vero, caro Franco, e sai che te l'ho detto anche in privato, è che a un certo punto Adamo, spinto da me e anche da altri, voleva ragionare con la sua testa, voleva liberarsi da questo cordone umbilicale con te, e tu questo non lo accetti, tu questo non lo vuoi da nessuno, figurarsi poi da Roberto Budalipassi. È importante che tu risponda veramente perché non hai dato fiducia a Coppola. Vi avvio alla conclusione. Caro Roberto, c'è una cosa pure per te. Sai che ti stimo. Ma hai visto i video che girano su internet? Sono imbarazzanti. Roberto, tu non meriti questo. La tua famiglia non merita questo. Hai riflettuto che di te Franco ha detto solo, Caro Roberto, sei onesto, sei buono, è il sindaco ideale. Roberto, ma veramente credi di essere il sindaco ideale per Franco Alfieri? Veramente credi di essere il sindaco ideale per Agropoli? Roberto, te lo dico perché ti voglio bene. Se io fossi in te stasera, rinuncerei alla mia corsa alle elezioni. Perché non meriti di non essere considerato per quello che sei. La tua opinione, Robè, non esisterà. Non esisterà, esisterà il pensiero di Franco. Puoi fare una prova. Nel caso dovessi vincere, ma non te lo auguro. Prova a dire a Franco, gli assessori li scelgo io. Farai un volo dal terzo piano del municipio. Per quanto mi riguarda, io voterò Massimo Laporta. Perché, caro Roberto, tu lo conosci molto meglio di me. Se tu potessi parlare della bravura di Massimo qui, lo verresti a dire. Pendevi dalle sue labbra. Pendevi dalle sue labbra. Poi è successo qualcosa di indicibile o di dicibile, non lo so. E' successo qualcosa che ti ha fatto fare questo scatto in avanti. Per quanto mi riguarda, io voterò Massimo Laporta. Lo ritengo bravo. Perché lo vedo e percepisco sincero nel suo voler fare qualcosa per Agropoli. Soprattutto lo vedo come un sindaco libero e liberato. Lo vedo come un sindaco rispettoso dell'altrui libertà. Dell'altrui libertà. Ha come cifra l'umiltà di chi sa veramente che da solo non si va da nessuna parte. E' ora di dire, io non ci sto. Io sono un uomo libero. Io sono un uomo libero.